E mi attacca quello che dice Paolo, perché è sempre difficile capire cosa c'è di se stessi, di personale, sicuramente qualcosa c'è perché passa attraverso di noi, attraverso se stessi, quindi quando continuiamo, appunto, questa attività, questa attività, proprio mi sembra di sapere di fare complimenti perché per me Guido è molto così, di un'imbarazza, perché mi sembra di fare dei complimenti a me stesso, di un po'. E' un'imbarazza che mi sembra di fare dei complimenti a noi, che è un po' di gioco, e' un po' di gioco, che è un po' di gioco, che è il mio primo, che è un po' di gioco, Ciao sono lì, come se non lo vedi, un ramento di buona cosa. Ma è un po' di gioco, lei e lei e lei, come si stessi a dire, non libero. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, festeggiamo con gioia questo giorno fra noi, Altro brindio dietro a voi, ti diciamo così, sii felice per sempre, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti soffici auguri, tanti auguri a te. Grazie a tutti.